La vestizione, le new entry, Riccardo si presenti? Ottimo, la voce fuoricampo è sempre la mia, in primo piano. Alcune chiacchiere, non ci si decide a muoversi. La prima rampetta, come si vede dalle macchine, è lo so. La prima rampetta, come si vede dalle macchine. La prima rampetta, come si vede dalle macchine. Ecco Roberto che compare all'orizzonte. La prima rampetta, come si vede dalle macchine. 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 Grazie a tutti. 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 Stai fermo da un quarto d'ora, ci credo. Le nuvole sono scese. 205? 205? Grazie a tutti. Grazie a tutti.